Bella boys e benvenuti su questo nuovissimo video. Oggi ragazzi come avrete detto dal titolo vi porto un gameplay ragazzi allucinante. Un gameplay appunto in solo dove ho fatto ben 21 kill e come avrete letto dal titolo ragazzi appunto un passo da record. Un passo da record mio personale perché il mio record di kill in solo è già di 21 e purtroppo non l'ho potuto superare perché come vedete dal video appunto ho perso ben 3 kill e feels bad man sarà per la prossima volta. In ogni caso ragazzi è un gameplay allucinante, è stata una partita veramente mostruosa quindi proprio per questo ragazzi vi consiglio di lasciare tanti mi piace per vedere se appunto ricevo supporto. Detto questo ragazzi vi consiglio di guardare in descrizione perché troverete tutti i miei social e anche i link per le live streaming ragazzi perché sì ogni giorno se seguo le live streaming su un altro sito non su youtube ed esattamente io streamo dalle 15 alle 18 e poi dalle 21 alle 2 di notte. Trovate il link in descrizione ragazzi, buona visione, buon video, un bacione, let's go baby! Oh no ragazzi è pieno a tilt, devo andare a fragare subito, immediatamente, non devo perdere neanche tempo. Subito, 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 subito. Ragazzi riesco a farci scappare veramente vedete i bomba sto game, se non muoio eh. U�, subito, 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 subito. Modختarata. Un uo? No. O, no. Ok. a me non ossipo come ragazzi vi prego spiegatemi come ha fatto sto ragazzo aiutarmi con il muro davanti ok bello sto giocando ho perso i miei shield un altro di trappola ma basta ma dove è sta trappola? scusate un attimo perché magari effettivamente è una trappola smart io neanche lo so sto avendo paura dove cazzo è sta trappola ragazzi ho perso due persone ha detto così e non so neanche dove stanno in realtà scusami frate ma ha bisogno di chi? ah c'è la casta qua sopra ragazzi chug chug in arrivo siete pronti? tra 3 2 1 ecco il chug ragazzi full shield let's go baby e qua mi sono cagato in mano mi sono cagato in mano perché mi ha pushato verso verso di lui con la scala qua mi sono veramente cagato in mano ve lo dico sinceramente ho visto la mia morte il c4 è skillet ah però pure tu te la stavi portando allora meriti di morire con la stessa arma che portavi shop bello la spengo di nuovo ok lascio così dai vai Bloom Bloom scelgo te ecco Woohoo! Oh no! Grazie. 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 Ok. Let's go, baby. 21 bombe a casa. Oh, yeah, boy. 21 bombe per me. Ciao, YouTube. Ma buonasera. Anzi, no, buongiorno, perché vedete questo video esattamente alle 11, quindi easy. Madora, ragazzi, non ho superato il mio record per una kill. Una, una, una kill, ragazzi. Una kill. Perché il mio record è 21 e ho rifatto che avevo 21. JJ!